Ciao a tutti qui è Paola e nel video di oggi vorrei parlare dello stile di attaccamento insicuro ambivalente che è principalmente lo stile di attaccamento che ho ricevuto io durante l'infanzia e spero con questo video di poter aiutare altre persone che hanno ricevuto lo stesso stile di attaccamento a progredire, interrompere il cerchio di questo stile di attaccamento, ritrovare la sicurezza in se stesse e progredire magnificamente verso la propria vita e verso la vita che vogliono e verso la vita che vogliono realizzare e verso il vero sé. Quello che una persona soprattutto una ragazza, una donna e prima ancora una bambina con uno stile di attaccamento insicuro cerca e disperatamente ricerca è la validazione esterna, la validazione per centrare il proprio senso d'identità e avere il proprio senso d'identità definito, quindi cerca complimenti, magari soprattutto in relazioni future verso il maschio, cerca appunto di farsi sempre dire che bella, che brava, che valevole d'amore, che può essere amata, che può fare qualsiasi cosa che è deputata a realizzare, ma non viene interiorizzato dentro di lei questo senso di sicurezza, perché pensa che la sicurezza vada ricercata all'esterno ed è un circolo che non finisce, perché la sicurezza all'esterno dipende dalle altre persone, quindi le altre persone sono indipendenti da noi e hanno la propria vita e non sempre possono fare il nostro coach, possono fare il nostro motivatore 24 ore su 24 e magari la gratificazione può durare due giorni o una settimana e poi c'è sempre appunto un effetto di down perché l'ansioso ambivalente va a ricercare altre gratificazioni e non è mai contento contento in se stesso, è un po' come quello che succede, per fare una piccola parentesi, è nel circolo della droga, nella dipendenza, cerchiamo la droga per stare bene, però la droga ci fa star male anche, scatena in noi delle reazioni contrastanti e per avere sempre lo stesso tipo di reazione andiamo a ricercare quella madre nella droga che è stata cattiva, che è stata non cattiva per intenzioni, per sue proprie ragioni è stata tendenzialmente tossica, ci ha potuto guidare fino a un certo punto, ma non ha sviluppato in noi quel senso di indipendenza, quel senso di sicurezza e quel senso di mano della madre buona da sola dentro di noi che possiamo richiamare sempre giorno per giorno e possiamo fare grazie a un forte lavoro su noi stessi attraverso molte tecniche che sono ad esempio la scrittura, scrivere quelli che sono i nostri punti di forza, scrivere quelli che sono le nostre debolezze e lavorare su tutte e due, scrivere, importante non è cosa scrivete, ma è importante che lasciate andare tutti i sentimenti dentro, la vostra rabbia e la vostra gioia e tutto quello che avete dentro per incanalarle, per esprimerla bene, per fare un servizio a voi stessi di amore, comprensione, gioia, umiltà e compassione e coltivare l'amore verso noi stessi, stare, imparare a stare da soli con noi stessi, a volerci bene come se fossimo il nostro miglior coach, noi siamo i maestri di noi stessi, nessuno può farci da maestro e bisogna capire che siamo già abbastanza, siamo già all'interno di questo viaggio di scoperte, di questo viaggio verso noi stessi e verso la riconnessione con i nostri più alti desideri, ma bisogna stare anche attenti in questo processo in cui magari riscopriamo la potenza dentro noi stessi, vogliamo, vediamo il potenziale in ognuno e bisogna stare attenti a rimettere il centro a noi stessi, stare indipendenti nella nostra energia, non possiamo guarire tutti, non abbiamo né la capacità né la forza illimitata di guarire tutti, quello che possiamo fare è agire su noi stessi e guarire noi stessi e con i nostri mezzi, perché se pensiamo di guarire tutti, se pensiamo di fare i maestri di tutti e di ergersi nella materia anche spirituale, come spesso faccio io, si perde quella parte di realtà, si perde la connessione con la realtà delle cose, con la realtà materiale, con i piedi ben piantati a terra, con quello che la bioenergetica chiama il grandi e si possono fare degli esercizi anche in questo caso di stare in piedi e con le gambe divaricate, chiudere gli occhi con le braccia aperte, ricevere questa energia, ricevere appunto l'energia dalla madre terra, dal suoro per rarricarsi nella realtà materiale, perché se non si hanno dedicati nella realtà materiale anche il piano emotivo è sbilanciato e anche il piano spirituale diventa solo spiano spirituale, l'iperonario nelle cose e nel mondo delle idee siamo in confusione e non abbiamo un senso di identità definito, la terra, il suolo è quello che ci dà un senso di identità, la struttura di cosa noi siamo, bisogna agire su tutti e tre i piani, ma prima di tutto bisogna ricordare che c'è una sequenza, ci sono delle fasi da percorrere che sono personali, ma questi tre piani devono essere ben bilanciati, non si può andare sullo psichismo, sull'esoterismo o sullo spiritualismo quando non si sta nel 3D reality come si direbbe in inglese, nella realtà ha tre dimensioni e poi se c'è una buona base, se abbiamo buon cuore noi stessi, se abbiamo cura di noi stessi anche a livello igienico, anche a livello di salute e anche a livello di, ad esempio possiamo lavare i piatti con estrema mindfulness, restando concentrati nel momento presente, è onorevole, facciamo un servizio a noi stessi e facciamo ad esempio un servizio a chi è venuto a cena da noi e ci ha portato in dono, visto che si avvicina al periodo di Natale un panettone, ma facciamo, stiamo appunto nel presente e ci validiamo in noi stessi perché abbiamo lavato i piatti, abbiamo fatto qualcosa nel reale che è proficuo e sappiamo che siamo abbastanza, non abbiamo niente da ottenere, non abbiamo niente da raggiungere, ma siamo sempre in progressione e fermi in se stessi e non dobbiamo neanche andare a cercare questa madre che è stata tossica, questa madre che ci ha guidato fino a un certo punto, ma non ha saputo staccare la sua mano da noi, possiamo riprendere questo senso di indipendenza in noi stessi e riprendere appunto quell'attaccamento sicuro che tutti ci meritiamo, l'amore che tutti ci meritiamo e che sappiamo fino in fondo di volere e di voler dare poi anche agli altri, questo vale anche soprattutto quando la femmina, la ragazza insicura, ambivalente, incontra una caratteristica nell'uomo ansioso evitante, perché l'uomo ansioso evitante ha paura di perdere l'amore della madre, come la donna evitante ha paura di perdere l'amore della madre, di staccarsi da questa tossicità e quindi magari per difese si concentra sullo spirituale, per non scendere a parti col dolore che questa indipendenza porta, perché è un cambiamento e con la paura di stare bene, con la paura di gettarsi e stare bene, perché questo comporterebbe un perdere la madre tossica e per una sequenza controintuitiva la paura è quella di morire, perdere la madre tossica, ma se ci sganciamo, se riusciamo appunto a vedere che il piano sotto Asabov Sobilo è uguale al piano sopra, partendo dalla terra, dal piano piano sotto, partendo da tutte le cose che stanno alla radice, attaccate alla terra, possiamo sganciarsi e rinascere e andare sul piano emotivo, puoi andare sul piano dello spirituale, con la meditazione possiamo aumentare le nostre facoltà psichiche, con la scrittura creativa possiamo aiutarci in quello, ma prima dobbiamo agire sul creare una forte base, una forte connessione con la realtà di tutti i giorni e con la realtà di questo arcobaleno dentro, anche se in questa giornata inglese piove, ma tenerlo sempre dentro di noi, andare avanti i saldi, così la validazione arriva dall'interno e le madri, i padri, gli uomini, le donne che si incontreranno durante la nostra vita saranno salutari, saranno indipendenti e saranno allineati alla nostra energia, alla nostra identità e al nostro vero se, se vi è piaciuto questo video thumbs up, pollice in su, sentitevi di liberi di commentare e vi risponderò nei miei modi, seguite sempre la vostra strada, seguite sempre il vostro percorso, be kind with yourself, love and beloved, è tutto, un abbraccio, much love, peace!